I temi sono tanti, sono di grande valore civico come sempre. Quest'anno il tema fondamentale è quello di un messaggio generazionale tramandato da un padre di famiglia, il nostro comandante di stazione, a suo figlio. Quindi un messaggio di consegna, di un mondo migliore, di un mondo di esperienza accumulato da tramandare al proprio figlio. Inizialmente attraverso momenti di iniziale incommunicabilità, poi successivamente un bravo comandante di stazione, come fa sempre, riesce a trovare la chiave di lettura per comunicare con il proprio figlio e così come è in grado poi di comunicare con l'intera comunità che in genere viene a cui affidata. Le pagine sono raccontate da un artista di fama ormai nazionale e internazionale, vale a dire il professore Maurizio De Giovanni, che chiaramente con le sue opere Il Bastardo di Pizzo Falcone, Mina Settembre e varie è riuscito a avere un successo significativo. I messaggi che vengono propugnati in questi suoi libri, in queste sue serie televisive, cioè quelli di riscatto sociale, di solidarietà, inclusività, sono poi i temi fondamentali che vengono trattati anche in questa nostra opera del calendario. Siamo particolarmente orgogliosi perché tra i vari prodotti editoriali, oltre al calendario che è chiaramente quello fondamentale, abbiamo anche i calendaretti da tavolo e quest'anno, anche grazie al nostro impegno come Comando Provinciale, abbiamo partecipato al concorso di idee nel lanciare le foto più belle dei borghi d'Italia da mandare quindi all'ufficio editoria del Comando Generale e siamo stati scelti in apertura, senza che ci sia stato dedicato proprio un mese particolare, ma siamo proprio all'apertura. Quindi il borgo di Civitella del Tronto ha avuto chiaramente una vetrina che merita.